Quello che ad oggi ancora non è ben chiaro per tutte le persone, tutti i lavoratori che operano all'interno di un cantiere sono appunto le figure della sicurezza del cantiere stesso. Banalmente la committenza, banalmente il coordinatore dei lavori, banalmente il punto responsabile dei lavori ma anche gli addetti alle emergenze, quindi gli addetti al primo soccorso e alla squadra antincendio. Non vi è consapevolezza di chi è presente in cantiere e chi è incaricato in termini di sicurezza di garantire, di attuare, di realizzare un'azione in termini di sicurezza efficace. La sicurezza non si realizza da soli, la sicurezza è frutto di collaborazione di tutti noi.